Lindo Bordini, il mio predecessore, che vinse la Maratona Olimpica di Seul l'88... Con lo stesso tecnico, ricordiamo, il professore Gigliotti. Con lo stesso tecnico, il prof Gigliotti aveva gareggiato senza orologio. Allora io, che invece ero un po' schiavo di queste tecnologie, gli avevo promesso «No, no, ma io gareggio senza il mio sport watch, te lo do prima della partenza, me lo ridai dopo il traguardo». Lì saluto un quarto d'ora prima della partenza, perché tra Maratona e Atene ci sono 40 km, i tecnici non seguono la gara da lì. «Torno verso la partenza, dopo salutino, e mi accorgo di avere l'orologio». Vabbè, l'ho tenuto e ci ho gareggiato. L'ho guardato quasi mai, l'ho guardato un po' nel finale. L'hai fatto partire, quindi? L'ho fatto partire, ma certo. L'hai fatto partire e poi tanto, essendo stato praticamente molto tempo in testa, tu hai l'automobile con... Ma il tuo è sempre più preciso di quello là.